Oggi la giornata mondiale del riciclo, occasione per rilanciare l'attenzione all'ambiente ma anche al recupero di materiali troppo spesso considerati solo rifiuti. Allora Alfredo D'Amato è andato a vedere la casa del riuso alle porte di Milano, vediamo. Per noi la festa del riciclo è quotidiana, tutti i giorni cerchiamo di dare una seconda vita alle cose. In che senso? Nel senso che oggetti spesso dimenticati e per noi inutili a noi servono per creare nuovi posti di lavoro. Questo ad esempio è un gioco, il gioco veniva utilizzato per attaccare i buoi a un carro agricolo. Mambi che viene dal Mali l'ha trasformato in un lampadario e vedete le lampadine con tutto l'impianto elettrico. Qua invece abbiamo Issa, anche lui viene dal Mali, ha preso un vecchio televisore con tubo cattodico, ha tolto il tubo cattodico e ha realizzato un tavolino con quattro gambe che provengono da una poltrona. Magano ribatte vivamente che non si doveva ascoltare così pazzo consiglio, né respingere si bella offerta. Questo non nasce come un tavolo di legno, bensì come un libro delle favole. E questo non nasce come ferma foto o oggetto di censura, ma bensì come bull dell'acqua calda. Ma allora questa è la fabbrica dei sogni, qui si inventano le favole? No, qui non inventiamo delle favole, non è neanche la fabbrica dei sogni. Lavoriamo moltissimo sulla realtà, ad esempio Mambi e Issa sono due ragazzi che sono arrivati dal Mali, sono arrivati fino in Italia e tramite la Casa del Reuso hanno trovato un posto di lavoro e sono riusciti a inserirsi attivamente nella società.